Grazie. 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 Facciamo un minuto di meditazione. Grazie. 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 Grazie a la pagina 76 del libro de oraciones. facciamo il Sutra del Corazón me posto ante la triple joya aria ha sido io una vez il Bhagavan estaba in la montagna llamada Pico del Buitre en Gajagriha accompagnada d'una gran asamblea de monjas e de bodhisattvas en aquella ocasión il Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo al mismo tiempo también el aria valokitesvara il bodhisattva mahasattva consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente entonces por el poder de Buda el venerable Shariputra preguntó al aria valokitesvara el bodhisattva mahasattva como debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría así dijo y el aria valokitesvara el bodhisattva mahasattva respondió al venerable Saratiputra con estas palabras Shariputra cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente la forma es vacuidad la vacuidad es forma la vacuidad no es más que forma la forma no es más que vacuidad del mismo modo la sensación la discriminación los factores de composición y la conciencia son vacíos Sariputra asimismo todos los fenómenos son vacíos sin características no son producidos ni destruidos no son impuros ni libres de impurezas ni deficientes ni completos por eso Sariputra en la vacuidad no hay forma ni sensación ni discriminación ni factores de composición ni conciencia no hay ojo ni oído ni nariz ni lengua ni cuerpo ni mente no hay forma visible ni sonido ni olor ni sabor ni objeto del tacto ni fenómeno no hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental no hay ignorancia ni extinción de la ignorancia etcétera hasta no haber envejecimiento ni muerte ni extinción del envejecimiento y de la muerte asimismo no hay origen no hay sufrimiento ni origen ni sensación ni camino no hay sabiduría suprema ni logro ni tampoco ausencia de logro así pues Sariputra como no hay logro los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella así trascienden los errores y alcanza la meta en Nirvana también también todos los budas de los tres tiempos de modo manifiesto y completo despiertan a la insuperable perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría por eso el mantra de la perfección de la sabiduría el mantra del gran conocimiento el mantra insuperable el mantra igual a lo inigualable el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido come la verdad porque no es falso este es el mantra de la perfección de la sabiduría tayata om gate gate para gate para sangate bodhishoja sariputra así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva en ese momento el vagabán emergió de la concentración y alabó al aria valokitesvara el bodhisattva mahasattva con estas palabras bien dicho bien dicho hijo del linaje así es así es la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como ha significado incluso los tatagatas se alegran después de que el vagabán hubo dicho esto el venerable sariputra el aria valokitesvara el bodhisattva mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabal yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda buscamos refugio en el Dharma buscamos refugio en la Sangha ante la Gran Madre Pragna Paramita la sabiduría que ha ido más allá rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad en el pasado Indra el rey de los devas reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario gracias a lo cual los maras seres malvados fueron ahuyentados de la misma manera también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas las enfermedades posesiones de espíritus malas condiciones las direcciones negativas lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo eso se extinga que desaparezca que se apacigua me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica cuida de los practicantes como una madre a su hijo Aka Samara Tsa Shadara Samara Yape No cierres mucho que somos mucha gente Aka Samara Tsa Shadara Samara Yape Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhishoha Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen que se apaciguen Shinting que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma y que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo página 97 No Música Om Barra Bumi Aung, Wanchese Shishashe, Om Barra Reke Aung, Chicharri Ko Yuriko Weusu, Rigel Po Rirasa, Lupa Polo Zamburi, Nubalancho Chattani, Lutan Lupa, Anaya Nadaianse, Yodendala Chodro, Draminyedandra, Draminyedita, Rippoche, Rivo Pa, Sanghi, Si, Do, Yo, Yo, Ba, Mamu, Pa, Yilo, Do, Kolo, Rippoche, Nubalancho, Rippoche, Sumo, Rippoche, Lompo, Rippoche, Lampo, Rippoche, Tancho, Rippoche, Mapo, Rippoche, Techenpo, Ibupake, Madre, Wamaluma, Kamam, Meto, Madupo, Manase, Madri, Chama, Nima, Dawa, Rippoche, Adhu, Chole, Nam Pa, Chie Pele, Nam Pa, Chie, Wwe, Gese, Kuu, Suladami, Peyo, Kususupa, Masawa, Mema. Grazie a tutti. 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 a tutti. , a tutti. incredibile 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 quando il problema il problema sta in tutti questi pensamenti, tutte queste idee che abbiamo creato per esempio quando abbiamo una enfermedazione quando dicono stai enfermo di tal cosa già la mente empieza a creare un montón di idee, di pensamenti, di preoccupazioni e questo non ci va aiutare a recuperare al contrario, tutta questa carga di preoccupazioni, di angustia ci va aiutare a sentire miedo e questo non ci va a beneficiarci solo stiamo empeorando le cose, questo per un lato però anche quando uno lo sta passando mal e ves che l'altro sta meglio che tu l'altro tiene salute o lo che sia genera envidia se ves che l'altro sta a tuo stesso nivel quindi genera competitività e se ves che tu stai meglio che altri genera orgullo tutto questo sta creando in nostra mente e tutte queste emocioni affictive ci stanno facendo sufrir ci stanno facendo infelici però non solo ci stanno facendo infelici in questa vita ma che per queste emocioni affictive ci stiamo creando le cause per che nelle vizze future altrui se volviamo a trovare con le situazioni desagracciate e altrui siamo passate per l'infelicità perché la enfermedad per molto grave che sia la enfermedad non ti va a creare alevito nelle vizze future la enfermedad una volta che uno la esperimenta che significa? la enfermedad è qualcosa desagradabile Beh, è conseguenza, risultato di una azione che abbiamo fatto nel passato, in vidi passati. Quindi ora, questa azione negativa ha maturato come enfermede. Al momento di maturare, al momento di avere il risultato, già sta desaparecendo la causa che ci credo, perché già maturò, già dio il risultato. Quindi, una volta che già si sta experimentando il risultato, già si è finito, già non c'è nulla più che va a venire, perché già sta maturando il risultato. Per questo la enfermedad ti può fare passare la mal in questa vita, però già non in le fanno futuri. Però quando uno ante la enfermedad sta creando molti pensamenti, molti preoccupazioni, molti emocioni, afflittività, poi quindi non solo empeora la enfermedad che già tiene ora, non solo la sta passando mal, perché anche è vero che quando uno si preoccupa demasiado e si angustia demasiado, si pone peor, si enferma ancora più, e se non è enfermo, poi già termina di enfermarse. E non solo nos empeora la situazione attuale, sino che per le vidi futuri, per tutte queste emocioni afflittività che stiamo generando, stiamo creando le cause per experimentare situazioni desagradabili in le vidi futuri. Per questo, nel budismo, si parlano molto di quello che è la mente, e si parlano con molti dettagli di quello che è la mente, e anche enfatizzano molto che bisogna guardare la nostra propria mente, per questa razza, perché è la base, la causa del nostro benessore o infelicità. Sì, No, ma non è vero. è tutto quello che Gesell ora stesso sta explicando, io so che per voi non è nuovo. Però anche è vero che ci sono ancora persone che sono nuove e anche mi vedo in la necessità di explicarle tutto questa introduzione, è necessario che anche lo abbiano chiaro. Però per l'altro lato, come dice in il testo di carta a un amico, quando tu pintas tu casa di blanco, ti queda molto bellissima, però il giorno che sale una notte clara, una notte di luna nuova, dove brilla la luna, fa vedere la casa ancora più blanca, molto più clara. Oggi, anche se è qualcosa che tu abbia già ascoltato, il fatto di volerlo a ascoltare, di volerlo a analizzare, provoca che queste idee siano sempre più, 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 più di volerlo a ascoltare. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 e non ci sono i tempi, ma sono i altri migliori e bene, lo che sta commentando Geshe-la è per che anche noi dobbiamo capire che questa insegnanza, questa filosofia buddista anche ci va a traere benefici anche in questa vita anche ci va a costruire la nostra felicità in questa vita e è che se noi stiamo experimentando difficoltà a livello sociale è perché abbiamo creato in conjunto abbiamo creato una azione equivocata è una azione equivocata erronea o azioni negativi che abbiamo creato tutti in conjunto che ha come risultato che abbiamo creato come società in conjunto situazioni difficili o problematiche però anche quando una società sta in esplendor con tutte le condizioni perfecti con riquezza, prosperità, eccetera è perché anche in conjunto si ha creato una azione virtuosa e che è un'azione positiva che è un'azione che fa a che madura in conjunto come società però anche a parte di queste esperienze queste situazioni compartite con gli altri a propos di queste esperienze problematiche o condizioni favori come le persone a livello individuale a pesar di la situazione difficili a livello individuale poi si trobano bene condizioni economiche tiene todos los objetos materiales bien, de manera excelente pues es porque esa persona ha creado una acción virtuosa y está madurando entonces, ¿qué quiere decir? que cada uno está creando lo que está experimentando o lo que va a experimentar y hay un dicho tibetano que nos ayuda a entenderlo mejor porque dice, si tú quieres saber qué hiciste en tu vida, en tus vidas pasadas simplemente tienes que observar en qué situación estás, qué experiencias estás viviendo y entonces sabrás qué habrás hecho en tu vida pasada y si tú quieres saber qué será de ti en las vidas futuras simplemente tienes que observar cómo se encuentra tu mente porque los problemas que podamos estar experimentando los problemas externos que podamos estar experimentando no es que alguien diga, no es alguien fuera de nosotros que diga a ti te voy a castigar, que nos esté señalando a ti te voy a dar este problema porque me caes mal o lo que sea nadie hay fuera de nosotros que nos está creando todos esos problemas sino somos cada uno de nosotros cuando creamos acciones negativas, cuando generamos pensamientos negativos todo eso son acciones que van a traer su consecuencia entonces no es alguien fuera de nosotros que diga tú eres una persona muy muy mala, a ti te voy a coger y te voy a arrastrar a los infiernos o tú eres una persona muy buena, a ti te voy a coger de la mano y te voy a llevar al cielo, a los reinos superiores no hay nadie fuera de nosotros que está haciéndolo que nos arrastra a un lado y nos lleva a otro sino somos cada uno de nosotros por lo tanto está en las manos de cada uno de nosotros dirigir hacia donde queremos ir guiarnos a nosotros mismos y eso es el consejo principal que nos está dando el budismo que está en nuestras manos esa felicidad, esa bienestar está únicamente en nuestras manos por lo tanto dice el budismo beneficia a los demás trata de beneficiar siempre a los demás si en algún momento pues no puedes hacerlo por lo menos jamás les hagas daño y genera ese amor y ese respeto por los seres eso es lo que nos está diciendo el budismo y volviendo otra vez al caso de los tibetanos que se están inmulando precisamente es una demostración que están haciendo así como en otros países, en otras culturas para manifestar su inconformidad para que se dé a conocer su motivo de por qué están inconformes o lo que sea pues ponen bombas en casas y explotan las casas y matan a otros seres o ponen una bomba en un puente todas esas manifestaciones es porque algo no les gusta se están manifestando entonces lo hacen a través de hacer daño a otros y aquí en este caso pues ellos dicen es que yo no puedo dañar a otros yo no quiero hacer daños a otros lo único que tengo yo lo único que en cierto modo es mío es mi propio cuerpo y si con esta herramienta que tengo este cuerpo que tengo puedo manifestarme para que las enseñanzas del buda puedan permanecer puedan seguir existiendo pues entonces por eso lo hacen así que las razones son completamente diferentes y entonces qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer qué es lo que cada uno de nosotros puede trabajar lo que hace Il primo passo a dare è mantenere la moralità, una conducta ética. La pacienza. Il poter things, la atención ai resmata, la generosità. Si noi praticiamo queste qualità, definitivamente siamo andando per questo buon cammino. Ese cammino che ci va a llevar a quel benessere che troviamo. E' importante, Per esempio la pacienza è una cosa che è molto importante a cultivare, la pacienza anche ante le situazioni difficili, perché la falta di pacienza anche nos sta llevando a generare idee, 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 pensamenti che ci stanno facendo daño. E ante una situazione in cui stiamo sufriendo, anche se deve avere pacienza, pacienza ante il sufrimiento, toleranza ante il sufrimiento. E a través del budismo che nos da eserremente, che ci aiutano a mantenere o a cultivare la pacienza, dicendo, se sto passando malo, se sto per questo sufrimiento, perché io stesso me lo credo, ora è solo sta madurando. E tutto questo ci aiuta a trattare di mantenere pacienza ante il sufrimiento, ante le situazioni difficili. E anche pacienza ante aquellas persone con le discutiamo o con le peleiamo. E' vero che ante le discusioni non di maniera immediata si va a generare pacienza, anche noi vogliamo tenere pacienza e vediamo le qualità di pacienza di un giorno per l'altro. No vamos a essere le persone più pacienti del mondo, anche questo è vero. Però se per lo meno già va riconosciendo, non lo tengo che fare, pacienza, pacienza, tranquillo. E' vero che non sia così lungo il confronto, questa discusione, che la vai un pochino cortando, è un avance nel cultivo della pacienza. E poco a poco, ora sarà molto poco, ora solo durò un minuto, però poco a poco vas cultivando questa pacienza e va a ir migliorando. E' vero che non si può essere così lungo, ma non si può essere così lungo, ma non si può essere così lungo. Io saranno molto piacendo, ma non si può essere così lungo, ma non si può essere così lungo, ma non si può essere così lungo, ma non si può essere così lungo. corpo fisico e riqueza. Ora, la pregunta è come lo consiguieron esas persone? Para empezar para tener un cuerpo humano por un lado las causas que nos llevan a tener un cuerpo humano es llevar a cabo una conducta ética perfecta una conducta ética de mejor calidad y acompañado de una oración que diga toda esta conducta ética este buen comportamiento que estoy llevando a cabo que sea para que pueda obtener un renacimiento humano, entonces gracias a esa oración de que busca ese renacimiento humano y una ética perfecta uno puede renacer con un cuerpo humano y el hecho no solo de ser humano sino de además tener un cuerpo atractivo bonito es gracias a la paciencia una persona que cultiva la paciencia una de las consecuencias secundarias porque no es la consecuencia principal de la paciencia la paciencia es tan virtuosa que los resultados de la paciencia son muchísimos más pero uno de ellos y uno secundario es que tienes obtienes un cuerpo bonito y no está además también tener dinero entonces cómo es que uno puede renacer con riqueza con condiciones externas excelentes pues practicando la generosidad porque una de las consecuencias de ser generosos es que obtienes riqueza tienes todo lo que necesitas y para que puedas tener carolina carolina para que puedas tener además también muchos amigos que necesitas es la consecuencia de qué pues es correcto para que uno pueda tener porque también tener muchas amistades mucha gente que te quiera es bueno es algo a desear pues para lo que trae como consecuencia de ello es porque uno ha prestado atención y se ha adiestrado en atender y prestar atención a los demás entonces eso es lo que trae como consecuencia pues tener muchas amistades y dice que es la desear deseamos muchas cosas y deseamos lo mejor pero las causas para poder conseguir ello las hacemos completamente mal deseamos algo pero creamos lo opuesto además para que tener un cuerpo humano un renacimiento humano tan renduas medio del de la noche de que tan todo suena tan zambulín de un mundo y no zambulín que es y el mejor se de mil también a chistes o todas ya o se abina para mando da mil todo de res todo 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 Si abbiamo fatto che io abbiamo fatto questo tipo di bambino, bisogna realizzare una riguardo. Alguien di oggi sono Ayi cometa a lavorare Inizio, e si abbiamo fatto una volta a lavorare su bambino di a fiancé. Sì, come? Sì, ma un'altra volta a lavorare di un'altra, Il fatto di avere un corpo umano, per cui si serve? Quando abbiamo un rinascimento umano, viene con una capacità intelectual. E lo vemos, se una persona con esa capacità di intelligenza la utilizza mal, può creare molti daño. Un ser humano con una intelligenza mal dirigida va creando guerras, conflictos, hambrunas. Puede incluso creare esa arma che in un instante destruye a todo il mondo. Eso, il unico ser che lo può fare è un ser humano con la capacità intelectual di umano. Però també, esa capacità, si la dirigimos bien, si la dirigimos a lo bueno, entonces podemos llegar a alcanzar cosas inconcebibles. Por ejemplo, ahora mismo somos humanos y si hemos conseguido este cuerpo humano es porque en el pasado practicamos unos más que otros como sea, pero hemos practicado generosidad, hemos practicado muchas acciones virtuosas que ha traído como consecuencia por fin tener un renacimiento humano. Però, aun como humanos, aun que se nos habla de que es un renacimiento extraordinario, un precioso renacimiento humano, etc., las 24 horas que tiene un día no estamos completamente relajados, tranquilos. Siempre hay cositas que nos molestan o que nos incomodan, aunque otra vez volvamos a encontrar esa tranquilidad, siempre hay algo que la puede romper, y es que podamos tener un cuerpo humano, pero aun así, mientras sigamos en este continuo nacer y renacer, pues vamos a seguir siendo sujetos a experimentar situaciones no deseadas. Entonces, el único medio para que podamos salir de este círculo de nacer y renacer, etc., es como humanos, porque es verdad que hay otros renacimientos, y otros renacimientos incluso mejores que los humanos, en el sentido de que se la pasan mucho mejor. Podemos renacer como dioses y tener todo, 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 todo lo que deseamos, tener esa riqueza, esos placeres, todo. El problema de ser renacimiento como dios es que precisamente lo tienes todo, excelente, y estás tan a gusto, estás tan feliz y estás disfrutando de tantos placeres que ni se te ocurre pensar en otra cosa más. Hasta que ese, claro, para renacer como dios, uno tuvo que haber acumulado muchísimas, muchísimas causas virtuosas para renacer ahí, muchísimas. Pero como solamente están disfrutando y la mente se les va solo en los placeres y disfrutar de esos placeres, pues llega un momento en que esas acciones virtuosas, las consecuencias de esas acciones virtuosas acaban. Y como nunca hizo nada, pues se acabó y por lo tanto, pues vuelve otra vez a caer hasta abajo. Y luego los que ya están hasta abajo, que están en renacimientos, pues de mucho sufrimiento, en renacimientos inferiores, pues claro, es tan fuerte los sufrimientos que están experimentando que no pueden poner su mente en algo más que no sea la inmensa cantidad de sufrimiento que están experimentando en los reinos inferiores. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos de ir saliendo de este círculo del Samsara es como humano, porque el humano tiene esa cualidad de que pues está bien, no está tan mal, está en un punto intermedio, pero lo principal tiene una capacidad intelectual que le lleva a poder reflexionar y a ir creando las causas necesarias para salir del Samsara. Y mejor oportunidad como humano, como un renacimiento humano, no existe. Porque igual que para construir una casa, pues primero necesitas el terreno donde la vas a construir. Si no hay terreno, imposible. Entonces, igual, el terreno con el cual podemos construir lo que queremos es un renacimiento humano, un cuerpo humano. Y por eso se dice que conseguir un renacimiento humano es algo sagrado, algo muy importante, porque podemos alcanzar cosas estupendas. Y por eso se dice que no hay un renacimiento humano, en un renacimiento humano, pero no hay un renacimiento humano. En resumen, para que podamos ser felices en esta vida, pues tenemos que cultivar cualidades como la paciencia, il servizio prestar l'attenzione e respeto a los demás no fijarnos en los defectos de otros y entonces uno es feliz y esa felicidad la contagia con los demás así que con estas cualidades cultivando estas cualidades uno está creando su felicidad y también ayuda a que otros sean también felices felicidad para uno y también para los demás aunque no estemos pensando ya en las vidas futuras porque pues también puede costar trabajo plantearnos ello y no olvidar también que cuando tenemos problemas y la estemos pasando mal pues pensar bueno si estoy pasando por esto es porque yo mismo creen en mis vidas anteriores en el pasado crea una acción negativa ahora simplemente sólo está madurando esta acción negativa ya está no darle más vueltas al asunto no crear más angustia preocupación miedos etcétera no algo hice está madurando y se acabó y entonces así pues estamos tratando de encontrar ese estado mental tranquilo en el cual relajado en el cual podamos enfrentar enfrentar mejor estos problemas y es así como vamos a ir creando este pensamiento nosotros mismos lo que nos ha llegando a la gente en el cual no hay il problema che possiamo avere sia più grande o meno grande o meno grande o pequeño, abbiamo bisogno di una soluzione, come seres humanos possiamo trovare soluzioni a nostri problemi, quindi se stiamo parlando di un problema che tiene soluzione, per cui ci preoccupiamo, meglio lavoriamo per risolverlo, anche è vero che hai problemi che non sono in nostri mani, soluzionarlo, che non possiamo risolverlo noi, quindi per cui ti preoccupi, anche se non ti preoccupi, non vale la pena preoccuparsi, perché preoccuparsi non aiuta in nulla, se davvero la preoccupazione, la angustia sirviera a solucionar il problema, poi facile, già le stai dicendo a tus amici, a tus familiari, preoccuparsi molto, perché mentre più preoccupi soluciono il problema, questo problema se elimina, però sappiamo per esperienza che non funziona così, mentre più preoccuparsi, più angustia, non solucionare nulla, per questo Shantideva dice, se il problema tiene soluzione, poi perché ti preoccupi, si lo puoi solucionare, se il problema che tiene non tiene soluzione, poi preoccuparsi non va a servir di nulla, quindi è per che ci sappiamo che la preoccupazione, per molto che preoccupiamo, non soluciona nulla, se tiene soluzione, poi perché ti preoccupi, se non si non lo puoi solucionare, e quindi chi tiene fe in Shantideva, potrà ascoltare su con se ho? Inizia a tutti i nostri spettatori e non sovra, inizia a tutti i nostri spettatori. per che noi possiamo avere una buona attitud ante i problemi, che possiamo essere pazienti ante i problemi e con questa pacienza, con queste qualità poi troviamo la felicità in questa vita per ottenere la felicità, per ottenere la felicità per ottenere la felicità per che così sappiamo bene come si consegue e un punto che è anche molto importante è grazie al studio, poi ci siamo creando questa confianza in la lei di causa e effetto perché ente più confiiamo in ella, ente più creiamo in ella poi più ci va aiutare in nostra vita diaria in nostro dia a dia e a essere felici in questa vita però se noi pensiamo che solo con ascoltare insegnanti di volta, una volta in la settimana una volta in meida, l'abbiamo a tenere chiaro poi la risposta è no, no basta solo con ascoltare la insegnanza, questo che stai ascoltando poi poi l'abbiamo a tenere chiaro per poi l'abbiamo a tenere riflessione, analizzare, alimentare e quindi si, ogni volta si va creando questa reale confianza e quindi già va creando questo benestà alla prossima e ci sono tutti i nostri amici, tutti i nostri amici, tutti i nostri amici, tutti i nostri amici. Tutti i nostri amici. Tutti i nostri amici, 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 tutti i nostri amici. 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 Buro forza. Tutti i nostri amici. meditar, anche sia di volta, non serve di nulla è tempo perdito, la risposta è no perché, anche se hace poco tempo che ascoltiamo, che meditiamo poi siamo dejando huellas in nostra mente poco a poco abbiamo construito dejando huellas però per che questo cambio che stiamo cercando sia real ci sono bisogno di nostra parte studiare realmente non solo conformare con questo sino ponernos a studiare e ahi è quando molti dicono è che io non ho tempo per studiare io non ho tempo e dice Gisela sì che tenei tempo per empezar non hai molto lavoro così che desempleati tiene che avere alguno che altro così che tempo sì che tenei e gli che tenei lavoro come anche hai molto poco lavoro 8 ore, ma di 8 ore diarmi non credo che ten quindi, spostiamo che sia 8 ore di lavoro più 8 ore di dormire poi già vanno 16 ore di dormire e poi entra la comida prepara la comida e tutto questo un'altra 4 ore di dormire alcuni che a lo mejor si possono tardare 6 ore di dormire poi già le puoi in quitando 2 ore di dormire e così ponersi a studiare e anche sia 2 ore di dormire una ore di dormire che uno realmente non ho tempo per studiare perché hanno bisogno di lavorare perché hanno bisogno di cuidare la famiglia molto bene ma non hai bisogno di 24 ore di dormire così che buscate anche il tempo per studiare e anche il tempo per studiare e anche il tempo per studiare ma che seguro, non ho bisogno di menzionarlo seguro ci va aiutare per la vita futura ma anche ci sta aiutando per questa vita perché ci sta alimentando questa confianza, questa sicurezza in quello che stiamo facendo e dove vogliamo andare e ci va a raccontare una storia che spero sia graciosa i inseriti. e vedi la paia c'è l'a wieder genia adorati a fare l'opposto che di sp� clean Wenn tuo non capillante nel panno, Mmm. Ci sono problemi che i pubblicanchi. Non sono degli occhi. Non ho come una cosa siccome la nostra produzione. questa a mezzetta 5 anni di spaz him지는à. Non c'è bisogno, non c'è indeed me. Mi saperetail molto ma cas contains angarie dressed due covenant poi addゲーム, e il esempio che vuole mettere, e che è un esempio che realmente succede, dice Gisela, prima di 1959, se una famiglia tibetana con dinero, sua casa, tutta completa, lo perdono tutto, perché ovviamente qui in occidente il dinero lo guardano nel banco, e quindi se te quema la casa, però il mio dinero è nel banco, più o meno a salvo nel banco. Ma anche i tibetani non avevano tanto in effettivo, quindi avevano lo avevano nel casa. E una con valladores. Se avevano il dinero avevano la costumbre di lasciarlo in casa, quindi quando si le quema la casa, si le quema tutto, si le ha quemato il dinero, la comida, tutto tutto tutto. Però il padre e la madre di esa famiglia, quando vedono che la casa ha perdito, lo hanno perdito tutto, dice è perché qualcosa in il passato abbiamo fatto, abbiamo creato una accion negativa, ha madurato, perché se queme così, però senza nulla causa, no hai ragione. Quindi noi abbiamo creato una accion negativa, ora ha madurato, già sta. E mantiene una mente tranquilla, bene, senza nulla problema. Questo è signo di che questa famiglia realmente tenia una forte confianza in la lei di causa e di efecto. E non stanno culpando a causas externi, sino uno ha creato la causa, se ha presentato le condizioni, ha madurato la causa e si ha acabato. Quindi poter mantenere esa mente felice, esa mente in paz, in una situazione come questa in cui lo perdono tutto, è perché realmente tenen esa confianza total in le enseñanzi. Però dice Gisela, no sto dicendo che tutti i tibetani sono uno dei santi, anche alcuni tibetani sono un pochino mali, però come in tutta la società, ci sono alcuni buoni, ci sono alcuni mali, però alcuni tibetani, possiamo dire che veramente hanno studiato, che hanno preparato, che conoscono le enseñanzi e confiano in le cose, anche lo perdono tutto, tutto. Tutto, non sono le menti non si vedono alterazioni. Non è come qui, che bene, se te quemano. Si, per esempio, qui se quemano una casa e lo perdono tutto, la casa, il dinero, tutto, è un problema grande, grande, grande e stanno agobiati. Mentre che una famiglia tibetana, che anche lo perdono tutto, può mantenere la paz. E realmente non è finita, è autentica. Perché dice, io ho creato una aczione, mi ha madurato, che bene! Esa aczione negativa, già si è finita. Esa, dice Gisela, esos, parche parche, esos obstacoli che io avevo, già si è finita, già si è finita con la casa. E così è come, possiamo vedere come, in una famiglia, esa confianza in le enseñanzi, trae esi benefici di trovare in paz, e anche, possiamo dire, le condizioni delle enseñanzi. Sì, qui è contento che io avevo un dettaglio, mi ha detto che io avevo un po' dios, ma non ci sono un po' dios e anche un po' dios e non ci sono, che io avevo un po' dios e non ci sono, che io avevo un po' dios e non ci sono, Perché il nostro texto è dice, questo è il fatto dios e dios di meditazione, e come, come… come ho persone nuove, a lo mejor quando esc�ano dios di meditazione già si stavano immaginando, solo arrivare a sentarsi e mettere a medire, a contemplare. E così diceva Geshe-la, non va a essere così, non va a essere così. Certo, perché quando uno escucha la parola meditazione, sembra che è come una cosa tangibile, che uno deve mettere a mettere a medire. Perchè, uno deve studiare per essere capace di medire. Vieni, sonoppe, l'acqua di e abbiamo dicato dalla vita, ma la scala è capace di tutto. Quindi, l'acqua di sospettare il coraggio, ma l'acqua di sospettare il coraggio, sognare l'acqua di sospettare il cavallo di il coraggio, pensare queste attenzione, di spettare. per Kamalashila Kamalashila era un gran erudito della India in la India, per supuesto che aveva moltissimi grandi eruditos, molti però este è un erudito che beneficio moltissimo al popolo tibetano con sus enseñanzas, quindi come fu molto beneficioso per i tibetani, per questo lo considerano un ser speciale e del qual sono molto agradeciti per la sua insegnanza, e ora noi, che di alcuna maniera, poi, anche abbiamo un interesse in questa cultura tibetana, che sono queste insegnanze tibetane, e così come a tibetani le ha beneficiato, poi anche a noi ci sta beneficiando. in quanto a la conducta Kamalashila, in quanto a la conducta di Kamalashila, su comportamento era di una persona Mahayana. in quanto a su visione, maiamica, se divide in due. in quanto a la vision maiamica se divide in due. una è la maiamica svatantrica e la otra è la maiamica prasangica. Il autor di questo suo visione pertenece a la maiamica svatantrica. di di che va so che si 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 Quando la filosofia buddhista quando entra in lo que é o pobo tibetano quando por primeira vez la traen consigo então há três pessoas importantes que são as que levaron o buddhismo ao tibet um deles é o Guru Rinpoche Padma Zambhava e o outro deles mas o que eu tenho no tibetano ou não sei como se chama Sandalashita Sandalashita Shigwatsō Sim, eu tenho um tibetano Eu tenho um tibetano Não sei se como se chama Sandalashita Sinhwatsō 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 E então é quando também começam a construir os primeiros monasterios graças a eles então se começa a dar a ordenação de monjas e monjas e depois também graças a eles começa a darse o que é essa práctica tántrica que também para os que não necessariamente são monjas mas também laicos que são praticantes e por outro lado ao desenvolver os tradutores que se chamam Lotshawa então para isso se estavam construindo esses monasterios e aí eles começam a fazer as empresas elas passam isolam e as 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 Siamo arrivati a tutti i nostri amici. in camamba ci polli di ricevessi in oda oda hacienda di zani meve soya o ton dalle in conguita peca con un tangbo pava tamaz pecesi un poilin zani oda hacienda di zani meve sove res Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 una visione che lui ha dato in Tibet e allora fu quando decidono escogere il budismo che stava procedendo dalla India quindi al maestro chino lo invitarono a salire perché già avevano deciso che visione iban a seguire lo che stava proponendo questo maestro che vino dalla China al Tibet chiamato Hashan, parlava della meditazione in cui era mettere la mente negra o in blanco, da igual, lasciare i pensamenti a un lato e lasciare la mente negra e chiaro, questo creò confusione e... come si chiamava? Shandarashita Shandarashita fu il che dice chiamava un erudito che ci va a mettere in chiaro come deve essere la meditazione che è lo che abbiamo che contemplare e quindi stava parlando di Kamalashila Kamalashila che lo invitarono dalla India e quindi vino e compuso lo che sono i tre texti di Stadio di Meditazione texti 1, 2 e 3 quindi, in loro si sta explicando lo che è realmente la meditazione e lo che realmente uno tiene che contemplare quando sta meditando per così eliminare le idee erronea che ancora stavano per lì acerca di meditar in nada eso è una... Kamalashila dice è che questo non è la meditazione questo non è lo che ti va a traere il risultato che stavamo buscando quindi per eliminare queste concezioni erronea queste idee erronea acerca di la meditazione Kamalashila dice la meditazione è questo, questo e questo a través di questi texti e così ci si chiama la visione correcta che è la visione che ora si propone dentro del budismo e per questo si dice che Kamalashila beneficia molto al popolo tibetano perché aiuta a eliminare queste concezioni erronea a cercare la meditazione e a guiar bene lo che è la meditazione come realmente è la meditazione che vogliamo dirigire la che ci va a traere il risultato che buscamo e è che dice Geshella tal vez meditar in la nada meditar in negro uno si sente molto bene e per questo molte persone si sienten attraídate a questo tipo di meditazione e tutti stanno all'inizio però questa non è la meditazione che realmente va a traere il risultato che buscamo e è grazie a Kamalashila che questo è chiaro è che ci sono un buon anche a chiostruzione in cibo 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 a chiostra perché E' un'altra parte la meditazione nella respirazione, e anche se ha parlato di meditarre contemplando la respirazione. Ma è solo un passo. Sin embargo, alcuni quando pensano di meditazione pensano che solo è osservare la respirazione. E ci sono tutti i atti che stanno meditando solo e guardano la respirazione. E' un tipo di meditazione solo in la respirazione, e tutto il tempo solo guardando la respirazione, lo che ti va a fare è che, sì, vas a tener una mente più relajata, più tranquilla. O anche sono tutti i atti che stanno meditando in la vela, dove solo stanno vedendo la vela. Beh, sì, ti può aiutare che stessi un po' più tranquillo, e che a lo mejor che tu mente non si distraiga tanto. Però questo non ti va a traere nessun risultato più che stare un po' relajato. Para che realmente facciamo una meditazione che ci trai esos risultati che stiamo buscando, esas meti grandi, necessitiamo tenere un conocimento, e necessitiamo mettere la mente in quello che stiamo cercando, lavorare con la mente. Ese è il tipo di meditazione che si propone. Io credo che è il momento di meditare un po' in l'azione di prendere un tè e del boccia di provare a sentire le galletiche. . Grazie a tutti.